ci siamo e finisce qui Inter batte Lazio due a zero all'Olimpico tabù interrotto per Inzaghi che non vinceva l'Olimpico anzi aveva sempre perso tre a uno da avversario qui in questo stadio difficilissimo un messaggio molto importante dell'Inter una prova di forza veramente 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 forte della nostra Inter due a zero in una partita in cui abbiamo sofferto all'inizio soprattutto ma Simo le stagioni da scudetto passano da partite così un Inter in emergenza infortuni con tanti acciaccati un po' sulle gambe alla fine del primo tempo eh con un po' di stanchezza che si è accumulata inevitabilmente ma le grandi squadre in queste grandi partite sanno quando è il momento di punire e un regalo di Marosic ce la fa sbloccare ma poi l'Inter tiene nel secondo tempo secondo me cresce e la porta a casa meritatamente con Lautaro e la decidono i due attaccanti e ed è abbastanza chiaro il messaggio che lancia quest'Inter che allunga a più quattro sulla Juventus è ancora lunghissima ma oggi era veramente fondamentale vincere dopo il pareggio della Juve l'Inter lo ha fatto soffrendo il giusto su un campo storicamente sempre difficilissimo contro la Lazio che in casa aveva subito solo quattro gol fin qui in campionato che non prendeva gol da diverse giornate e che soprattutto non perdeva in casa da parecchio tempo e questa è una grande vittoria io prima di Napoli dicevo per l'Inter vincere a Napoli anche negli anni migliori è sempre una qualcosa di complicato e replico lo stesso commento per la gara di Roma con la Lazio soprattutto con Inzaghi in panchina che come dicevi bene prima aveva perso due volte su due e col Napoli hai vinto 3 a 0 giocando molto bene questa sera non è stata l'Inter più bella di tutto dal punto di vista della produzione offensiva ma era un tipo di partita che probabilmente ti avrebbe impedito di farlo a prescindere da una Lazio che comunque è stata anche molto brava secondo me ha giocato molto bene soprattutto nel primo tempo la decide la sblocca un errore di Marusic che tra l'altro vedo in questo momento si scusa con i suoi tifosi purtroppo sono cose che capitano ha fatto comunque una buonissima partita Marusic in copertura ma l'Inter proprio perché la Lazio ha giocato così bene secondo me merita un elogio ulteriore perché è una partita veramente difficile sulla carta difficile secondo i precedenti difficile perché hai fuori comunque dei giocatori alla scelta per esempio di Bissac che poi vedremo ha giocato anche bene però era una tra virgolette una forzatura nel senso in un Lazio inter normale Bissac non gioca in attacco e ricorto la Juve non aveva vinto e quindi c'era anche la pressione di dire devi allungare quest'Inter quest'anno è uno schiaccia sassi se va avanti così io continuo a dire non ho paura di scaramanzi o altro ce n'è per pochi il dubbio eventualmente è giusto questo che vada avanti così o meno ma finché è questa lasciamo le briciole l'unico dubbio è quello che dice Inzaghi è quello dei momenti di difficoltà che arriveranno quando il calendario sarà intasato tra febbraio marzo soprattutto quel periodo lì però per il momento l'Inter in un altro momento di difficoltà con tanti infortuni con un calendario veramente intasato porta a casa un altro risultato pesante contro un Lazio che ha i punti se poi andiamo a vedere gli expected goals in realtà sembra più equilibrata di quello che invece la sensazione della partita mi ha restituito un Inter che ancora una volta chiude senza subire gol e senza concedere grandissime occasioni per giustificare qualcosa in più di comunque qualcosa di diverso da questo risultato perché poi mi ricordo l'occasione di Rovella e poi tanta produzione che non ha portato in realtà veri e propri pericoli per la nostra retroguardia mentre l'Inter oltre ai due gol ha avuto un'occasione nel finale con Frattesi un miracolo di Provedel su Mkhitaryan un'altra occasione per Mkhitaryan all'inizio e tante altre situazioni un rigore dubbio perché se ci sono state tante polemiche sul tocco di Bani in Genoa Juve allora anche su quello in questa partita nell'area di rigore della Lazio andrebbe un attimino menzionato e ricordato e niente Simo per me in questa partita oggi solo note positive una vittoria della grande squadra i due attaccanti un po' il simbolo del momento lanciano un altro messaggio anche loro di quanto sono importanti per il gioco dell'Inter di quanto fanno la differenza e di come ecco le scelte di Inzaghi nel preservarli un pochino nella gara contro la Real Sociedad eh siano state fatte anche nell'ottica ecco di questa gara delle rotazioni della gestione delle energie ed è stato molto importante oggi aver avuto Lautaro e Turam al meglio segnalo anche un Barella che a me è piaciuto molto tra i tre centrocampisti oggi il centrocampo non l'ho visto al meglio di quello che sappiamo possono fare ma Barella c'è stato praticamente in tutta la gara al di là di qualche errore iniziale e però tante cose buone tantissime tantissime anche leggevo in chat da Kevin 11 clean sheet su 16 un numero che se ripensiamo alla scorsa stagione sembra assurdo e in effetti lo è anche in peraltro in trasferta credo sia ancora più clamoroso adesso non ho i numeri sotto mano ma in trasferta siamo veramente una qualcosa di clamoroso e no è proprio come dicevamo la classica vittoria della squadra che ha come obiettivo anche dichiarato senza nascondersi come fanno altri quello di arrivare prima questa è proprio questa la classica vittoria di una squadra di questo tipo e l'inter risultato è quello poi è sì ma poi quest'inter si regge anche su un equilibrio che finora è stato quasi impeccabile ha portato tantissime vittorie ma spesso ne parliamo anche nel club alla fine in zaghi in questo momento ha una difesa che in ogni partita ne ha uno adattato oggi era l'unica che doveva tre centrali puri adattato carlos augusto darmiandi per sé nasce come adattato perché nasce laterale in attacco una volta su tre gli ne manca uno di quelli in panchina e anche oggi ha dovuto mettere classen cioè siamo forti siamo anche una bella rosa però non è che in zaghi sta allenando il manchester city contro squadre di serie b quindi anche questo va tenuto conto e finché quei due là davanti durano incracciamo le dita perché è veramente uno spettacolo vederli giocare anche stasera la decidono loro non a caso come dicevi sì e poi ti aggiungo un'altra riflessione simon stavo pensando cioè su 16 partite di campionato l'inter ne ha vinte 13 pareggiate due persa uno e le pareggiate sono uno con la juventus a torino e una col bologna che visto lì in quel momento lì in tanti dicevano è col bologna un pareggio così oggi il bologna è quarto in zona champions league rimane ovviamente il rammarico per come è maturato perché in vantaggio 2 a 0 farti recuperare fino al 2 a 2 non va bene però lo ripeto l'inter ha vinto 13 partite su 16 con due pareggi di cui uno a torino con la juve sul campo per noi più difficile del torneo inevitabilmente e col bologna un mezzo passo falso insieme chiaramente al vero neo che è quello col sassuolo secondo me però quello è il blackout che ogni anno ci capita col sassuolo lo sappiamo ce lo devi mettere in conto e lo sai per il resto quello di oggi è un'altra un'altra partita che va in quella direzione lì una partita in cui ci arrivavi con delle difficoltà a livello di formazione in cui hai messo bisec sul quale avevi già visto delle cose per fortuna diciamo per bravura anche avevi iniziato ad inserirlo prima quindi oggi non ha non ha sfigurato anzi non mi è sembrato fuori dal contesto di questa partita grazie anche al lavoro di darmian che sicuramente lo ha aiutato molto perché aveva un cliente scomodissimo come zaccagni e quindi bis ha fatto bene ha giocato con coraggio buttandosi anche in avanti con qualità forse mei continua a far meglio andando in avanti comunque rispetto a dietro dove qualcosina ancora secondo me può migliorare nelle letture nel lavoro nelle distanze ma sicuramente ci saremo e ce la faremo poi adesso Simo la cosa incoraggiante è un pavar che è tornato a disposizione l'ostacolo di nuovo Coppa Italia col Bologna che sarà una bella sfida molto intensa ma poi il calendario ci mette davanti la possibilità di lavorare sul campionato con delle sfide alla nostra portata con Lecce col Genoa poi ci sarà anche Verona e Monza se non sbaglio come come calendario quindi tocca a noi adesso fare un bel cammino Sì il momento diciamo più difficile inteso come avversari forti e Rosa tirata un po' all'osso forse è lontano forse è passato sulla prima soprattutto sulla seconda ancora appunto alcuni dobbiamo recuperarli e quindi sì adesso è il momento di provare anche magari un allungo poi chiaramente dipende anche dalla Juve perché se la Juve le vince tutte tu puoi vincerle anche tutte ma gli allunghi non li fai in attesa poi di gennaio febbraio dove invece con ricominceranno le gare numerose e importanti però ecco in questo momento io come dicevo nel prepartita l'Inter anche oggi ha dimostrato di saper fare un po' tutto sia di vincere dominando 4 a 0 che di vincere colpendo quando serve ma sapendo anche incassare perché oggi la Lazio ha tenuto secondo me il pallino del gioco soprattutto nel primo tempo più di noi però di grandi occasioni non è che ne abbia create e l'Inter non ha sofferto nel senso che è stata presa a pallonate e però ecco a differenza per esempio della Juve che il primo tipo di approccio non mi sembra che ancora ce l'abbia fatto vedere così spesso e che quindi quelle volte in cui non riesce a chiudere la gara pareggia noi abbiamo quest'arma in più e io sono convinto che sia più facile vincere come gioca l'Inter che come gioca la Juve al di là della paura che ognuno di noi ha di di della Juventus che comunque è una squadra solida quindi io vado avanti con fiducia dopo che che la vittoria di Lazio Inter fosse determinata da un Inter più matura o dal semplice fatto di aver disinnescato il lunghissimo e chiacchieratissimo duello a distanza Milinkovic-Savic-Gagliardini non lo so però comunque oggi è andata bene il risultato ce lo prendiamo lo stesso grazie De Picapica grazie di cuore per il sostegno che bella domenica forza Inter un bel weekend un bel weekend sicuramente meglio di così era difficile fare meglio di così veramente dura Franco il nostro Franco grazie di cuore né Sarri nell'Olimpico né sempre tu Maresca oggi non ci ha fermato nessuno voliamo basso ma godiamoci vabbè qui parlavamo di Inzaghi di un altro passo avanti ancora una volta Inzaghi che comunque affrontava un allenatore bestia nera e tra l'altro se non ricordo male Sarri in casa in campionato con l'Inter non ha mai perso quindi anche la prima volta che l'Inter batte Maurizio Sarri da allenatore in trasferta e quindi anche questo da segnalare grazie Stefano Serpi grazie di cuore Stefano per il sostegno dice il sorriso di Turam e il sorriso di Turam è un po' l'immagine di questa partita di questo gruppo un Turam che arriva a quota otto gol più sei assist più quattro rigori procurati Lautaro Martinez arriva a 15 gol in questo campionato 29 gol nell'anno solare nessuno mai nella storia dell'Inter aveva fatto meglio nemmeno Milito nemmeno Vieri che sono stati superati impressionanti i numeri di questi due attaccanti che guidano che guidano l'attacco dell'Inter che continua a macinare i numeri l'Inter dovrebbe avere adesso una differenza reti di più 32 addirittura quindi anche nei numeri è una supremazia devastante Simo non so se altro da aggiungere no pensavo giusto velocemente che tre anni fa forse non avremmo mai pensato di vedere per lo meno nel futuro più più immediato una coppia più forte più ben integrata della della Lula e invece siamo qui ormai da settimane a parlare di un qualcosa che forse è addirittura meglio quindi molto bene verissimo 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 e dalla chat comunque c'è c'è molto entusiasmo ed è giusto così per una partita veramente importante due a zero Inter battuti anche i bianco celesti di Maurizio Sarri Lautaro Turam i marcatori in chat nei commenti fatemi sapere chi è stato per voi il migliore in campo di tutti e vi ricordo di abbonarvi al nostro canale per sostenere il nostro progetto vi aspettiamo la nostra grande community dei sostenitori di Passione